Sì, è vero. Chi mi conosce sa le battaglie che ho fatto per l'ultimo concorso come dirigente scolastico. Anzi, direi che sono stata la prima che nel novembre del 2018 presentai un'interrogazione chiedendo al Ministro una attenzione. La scuola ha bisogno subito degli interventi strutturali come il superare il precariato. Non è possibile che oggi si possa ancora avere 200.000 precari, uomini e donne supertitolati purtroppo ancora senza tutele. La scuola ha bisogno di una formazione continua, ma una formazione per tutto il mondo della scuola e non solo per pochi eletti. Non abbiamo bisogno di riforme calate dall'alto che non amano la scuola ma la distruggono, che vogliono semplicemente creare discriminazione come l'alta formazione. Questo carrozzone che ci costa 1.800.000 euro l'anno viene assegnato solo a 12 persone. Non abbiamo bisogno di decenti esperti, docenti di serie A che creeranno solo una forma di discriminazione all'interno delle scuole. abbiamo bisogno invece di risposte, risposte serie che non creano discriminazioni. Quindi precariato e aumento dei contratti. Aumento dei contratti salariali. Non è possibile che i nostri docenti godano di stipendi più bassi d'Europa. Gli soldi ci sono e bisogna fare, firmare subito il contratto oggi, non domani. Sono stati assegnati nel MOF, ci sono 300 milioni di euro. Il ministro intervenga subito e si proceda finalmente a firmare questo contratto. Il ministro intervenga subito e si proceda finalmente a firmare questo contratto. Il ministro intervenga subito e si proceda finalmente a firmare questo contratto. Il ministro intervenga subito e si proceda finalmente a firmare questo contratto.